si prende un botto, rivelando anche le cose importanti, tu sempre un botto, i prossimi botti Oggi facciamo l'anniversario, facciamo 14 anni di attività e abbiamo un ospite Noi siamo forti con le tecnologie, abbiamo tutte apparecchiature estremamente all'avanguardia Dall'epidazione lavata, al dimagrimento, al rimodellamento del corpo, del viso, lifting, noi siamo forti in quello Si prende un botto, rivelando anche le cose importanti, tu sempre un botto Grande I prossimi botti I prossimi botti Sì, risveglieremo l'inchiesta del calcio e settimana prossima pubblicheremo le chat di Pellegrini di Valamante Ragazzi, ho fatto di un bacio Ciao a tutti Grazie Fabi